La pista inglese, questo è il volume che la racchiude, nasce a metà degli anni 90, precisamente nel 1994, quando io leggendo libri scritti sulle ultime vicende del fascismo, sulla morte di Mussolini, comincio a rilevare delle contraddizioni clamorose in questi racconti. Ad esempio, Walter Audisio, il mitico colonnello Valerio, che avrebbe fucilato Mussolini e la Petacci davanti a Villa Belmonte nel pomeriggio del 29 aprile, scrive che Mussolini era terrorizzato, tremava dalla paura, sbavava e gli diceva ma, ma, signor colonnello, ma, signor colonnello. Un altro dei dirigenti partigiani presenti alla presunta fucilazione di Mussolini, Aldo Lampredi, Guido, nome di battaglia Guido, rivelò molti anni dopo il racconto di Audisio, che Mussolini si aprì la giacca e disse, sparate al petto. Michele Moretti, un altro dei tre che componevano il plotone d'esecuzione, don di battaglia Pietro, raccontò ad un noto storico comasco, che poi lo pubblicò nel suo libro, che Mussolini, prima di essere fucilato, gridò, viva l'Italia. Beh, c'erano delle belle contraddizioni, insomma, non era possibile accettare tre versioni così diverse. A questa si aggiunsero altri elementi che mi misero in forte sospetto. Ecco, questi sono solo due degli elementi più clamorosi. Mi spinsero a scrivere una serie di articoli giornalistici, una vera e propria inchiesta, che pubblicai sul settimanale Noi e sul quotidiano La Notte, quotidiano della sera alla notte. Servizi che ebbero una certa risonanza e soprattutto perché qualche mese dopo il direttore della notte, Massimo Donelli, mi telefonò e mi disse Luciano, hai azzeccato in pieno ciò qui davanti a me, il partigiano che ha fucilato Mussolini. Mi precipitai a vedere chi era Bruno Giovanni Lonati, che aveva appena finito di scrivere un libro raccontando esattamente in quali circostanze avesse fucilato Mussolini la mattina del 29 aprile e non il pomeriggio e stava per pubblicare questo libro presso la Mursia con il titolo Mussolini e Claretta, la verità e aveva letto i miei servizi sulla notte e voleva che lo leggessi, voleva che mi rendessi conto che era stato lui veramente. Ho preso il suo testo, lo lessi, era sicuramente interessante, ma purtroppo mancava di prove valide, insomma di riscontri validi al suo racconto, per cui non mi sentii di riprendere gli articoli che avevo già pubblicato e rinnovarli e rinforzarli con la testimonianza di Bruno Giovanni Lonati. Passarono ovviamente degli anni e sempre sulla base del racconto di Bruno Giovanni Lonati iniziai tutta una serie di indagini sul lago di Como, più e più volte insieme al mio caro amico, l'avvocato Alessandro Zanella, anche lui appassionato dongologo, che poi scriverà il libro L'ora di dongo, non l'oro di dongo, l'ora di dongo. E lavorando insieme, indagando insieme con Zanella, trovammo moltissimi elementi probanti che provavano che effettivamente Bruno Giovanni Lonati aveva scritto la verità. Rafforzato dalla testimonianza appunto di FD, io riuscì finalmente a mettere assieme tutti questi elementi che avevo raccolto e a pubblicare la pista inglese. Che ebbe molta risonanza non solo in Italia ma anche all'estero, tant'è vero che mi giunse da New York, dalla Enigma Book di New York, la proposta di scrivere un libro molto simile a questo che sarebbe stato pubblicato e lanciato negli Stati Uniti, che è questo. Mussolini, The Secrets of His Death. E questo è praticamente come è nata la pista inglese.